E' stato firmato questa mattina a Chieti un protocollo d'intesa tra Prefettura e Camera di Commercio di Chieti Pescara volto a realizzare una fattiva collaborazione tra le parti per favorire la legalità e la trasparenza nelle attività di impresa e prevenire così il pericolo di infiltrazioni malavitose. La Camera di Commercio metterà a disposizione delle forze dell'ordine i dati della piattaforma informatica Regional Explorer. I protocolli d'intesa hanno la loro ragion d'essere dal momento in cui prendono piede, non devono essere solo un momento così simbolico. Sì, la simbologia ha la sua importanza e quindi ben venga questo momento in cui abbiamo inaugurato e firmato il protocollo. Però dietro c'è un lavoro da parte della Camera di Commercio, è nostro, delle forze dell'ordine, per cui abbiamo voluto entrambi che tutti questi passi fossero fatti velocemente e anche l'addestramento di coloro i quali dovranno usare questo strumento avverrà in maniera veloce perché oggi, attraversando un momento particolare che è quello pandemico, che sappiamo tutti, ma che nasconde, come ho detto, i timori sono forti, che possa nascondere, dei mali che oggi non si vedono. Uno di quelli è sicuramente quello che sta affliggendo il commercio in genere. Le attività commerciali, artigianali, mercatali sono in grossissima sofferenza. Noi dobbiamo garantire loro che la loro attività di ripresa possa avvenire in una cornice di sicurezza massima e mi creda sia le forze dell'ordine che la prefettura si impegneranno in questo senso. Il protocollo ha questo significato. Oggi è stato siglato un accordo fondamentale per la tutela del tessuto economico, sociale sano di questo territorio, delle persone per bene che fanno impresa, che fanno commercio. L'occhio delle forze dell'ordine quindi è ancora di più a favore del cittadino e di chi lavora con onestà e serietà in un momento difficile legato appunto alla pandemia. La Camera di Commercio avendo un patrimonio di dati importante e tramite Infocamere riesce con sistemi digitalizzati a renderle disponibili alle forze dell'ordine e abbiamo colto l'occasione, visto l'interesse del prefetto che ci teneva ad essere vigili sul territorio, con questo protocollo abbiamo messo a disposizione di tutte le forze della pubblica sicurezza una montagna di dati che se ne hanno bisogno ne possono soffrire. Grazie mille! Grazie a tutti.